Il volto nuovo della Lega Nord si è manifestato ieri in Abruzzo. Matteo Salvini ha dato un taglionetto al passato, provando a sdoganare quello che era il partito di Umberto Bossi, che parlava solo di autonomia territoriale, di secessione, di Roma Ladrona. La Lega con Salvini sta cambiando volto e se ne sono accorti anche gli abruzzesi, che ieri lo hanno accolto con curiosità, interesse e con qualche immancabile contestazione che, se vogliamo, fa parte del gioco. La Lega di Salvini è un nuovo soggetto politico, che si è sdoganato per la prima volta la scorsa estate quando il segretario federale è andato addirittura a far visita alla Corea del Nord insieme alla delegazione parlamentare Amici della Corea, capitanata dal senatore Antonio Razzi. Un leghista nell'unico paese comunista puro rimasto al mondo era già una notizia. Il giro nell'Italia meridionale equivale, per certi versi, quasi alla visita in Corea. Andare a chiedere appoggio, il voto, l'impegno politico in una terra dove fino a qualche anno fa, per coloro che agivano sotto l'insegna di Alberto D'Aggiussano, c'erano soltanto terroni o persone con poca voglia di lavorare, è un bel passo in avanti. Matteo Salvini non è uno sciocco, è uno che porta avanti le sue idee anti-europeiste e che vede uno Stato libero dalle gacce e lacciuoli imposti dall'Europa e soprattutto lontano il più possibile dalla moneta unica. Utopia? Forse. Ma guai a sottovalutarlo. Il bagno di folla ricevuto ieri lo pone come uno dei politici emergenti e forse l'unico capace di intercettare, in un certo modo, la protesta degli italiani. L'Abruzzo gli ha dato molto in termini di risposta, quella che lui voleva. Adesso staremo a vedere se l'interessamento sarà reciproco.